È da sette mesi che sto cercando una risposta su questa cosa dei passaggi, perché appunto leggendo non solo la Bibbia ma tutti ne parlano. E purtroppo adesso qui magari mi tiro dietro tutto il pubblico, però sono sempre più convinto che la realtà sia molto più concreta, quindi niente universi, niente mondi paralleli. Queste porte ci sono, sono semplicemente oltre i muri del presunto polo sud, dove nessun esercito ti fa passare. Chi vuole informarsi cerca tranquillamente su Youtube, ci sono centinaia di video sia in inglese che in italiano, che secondo me ridimensionano proprio tutto il concetto di pianeta Terra, pianeti. Si, ti riferisci al discorso della Terra Piazza. Esatto, però è molto molto attinente, fatalità, sarà un caso, alle descrizioni che sia i sumeri sia gli egizi dicono di questi che andavano avanti e indietro per questi cancelli. Cioè effettivamente erano delle cose fisiche ultra tecnologiche, noi non sappiamo, però ecco secondo me qualcuno... Diciamo che dal mio punto di vista mi va bene lo stesso. Certo, comunque qualcuno sa, ecco, quindi diciamo che a noi non lo dico, però le domande che noi poveri mortali ci facciamo e ci faremo, tante persone, compresi i piloti degli aerei, probabilmente le sanno le risposte. Quindi cercherai qua, prima di andare nello spazio. Ma io per la verità non ricerco neppure, quindi diciamo che sono arrabbiato con i miei colleghi Elohim che se ne sono andati mi hanno lasciato qui da solo fare sto lavoro.